E' con grande piacere e grande emozione anche, lasciatemelo dire, che ospito qui con me oggi c'è Yaya Forte, grande attrice ma soprattutto nata sotto il segno dei pesci, sbaglio? Buongiorno! Buongiorno, ciao! Sì, nata sotto il segno dei pesci. Che è un bellissimo segno che io adoro. Per il suo segno, io pure adoro, certo emotività, fragilità e company, però un segno che aiuta gli artisti. E nel tuo caso ti ha aiutato veramente tanto ma ci hai messo anche del tuo perché il tuo talento si è contraddistinto sin da quando eri bambina anche perché ho cercato di contare un po' tutti i tuoi film e tutti i tuoi lavori, allora siamo andati oltre 45-46 per i film non parliamo delle interpretazioni teatrali, non parliamo di tutto il resto di televisione, insomma, ma hai iniziato ancora nella culla. Purtroppo a un'età più che... Io direi per fortuna perché più passano gli anni più acquisiamo saggezza. Sì, hai ragione, è fantastica, fantastica definizione. Ma perché sei qua oggi? Perché arrivi al Teatro Verdi di Fiorenzuola, esattamente sabato. Al bellissimo Teatro Verdi di Fiorenzuola che è un posto stupendo per cui sono molto contenta di arrivare da voi. In Emilia. Sabato 1 dicembre alle 21.15, grazie anche a Giuseppe Argyro, giusto? Sì. Ecco, andrà sul palco, ci sarà l'Odissea di Omero, ovvero intitolata Penelope. Allora, come è nata? Di chi è stata l'idea? Di Argyro, del regista che aveva scritto questa drammaturgia e ha pensato di propormelo. Siccome l'Odissea è il mio libro preferito da sempre al mondo, sono stata ben contenta di poterla interpretare, anche se io amo molto più Ulisse di Penelope, in questo caso faccio Penelope, ma non solo, faccio anche Polifemo, Ulisse, Le Sirene, Circe, diciamo è una polifonia con tutti i meravigliosi personaggi dell'Odissea, con una grande sorpresa finale. Che non diciamo, anche perché questa è... No, ma diciamola pure, perché secondo me è curiosa, poi per il momento di cose femminili. Diciamo che il regista ha immaginato che questa Penelope, nel momento in cui Ulisse ritorna, è lei ad andare via, almeno nel suo sogno, perché tutta la drammaturgia è come un grande sogno di Penelope, e quindi c'è come un moto, non so se chiamarlo femminista, o comunque un'invenzione drammaturgica che toglie Penelope da quell'attesa eterna a cui è legata l'immagine più forte di questo personaggio. Quindi tu sarai la protagonista assoluta da sola. Sì, sì. Quindi in questo caso stavi dicendo? È molto, diciamo, l'Odissea è veramente il racconto dei racconti, è talmente immaginifico che tutte le volte che l'abbiamo fatto c'è anche un grande piacere degli spettatori nell'ascoltare cose che in qualche maniera conosciamo tutti e appartengono proprio alla nostra mitologica formazione. Bellissimo, guarda, già ascoltandoti anche solo per telefono mi hai creato una curiosità incredibile perché è questa voce così soave che trascina. Ma tu hai una bellissima voce. Eh, ma non arriverò mai ai tuoi livelli, quando se mai ci arriverò io ti chiamerò e ti dirò Iaia, siamo qua. Guarda, allora diamo appuntamento sabato 1 dicembre alle ore 21.15 al Teatro Verdi di Fiorenzuola con nella rassegna Cosmicità. Ci sarai tu che interpreterai Penelope. Perfetto, vi aspetto tutti e felice di essere in Emilia. E ogni tanto riposati perché il 2018 è stato veramente un anno incredibile, tre film, adesso teatro. Con calma, ogni tanto riposati, però noi ti aspettiamo. Dopo, quando tornerai da Fiorenzuola? Va bene. Grazie Iaiaforte, buona serata. Ciao, grazie. Il ritmo di piacenza è il ritmo che piace, naturalmente. E Radio Sound.